Capitolo 26 Ho meno di una settimana per prepararmi a provino. Cora mi aiuta mentre mi esercito. Mi dice di sentire davvero il testo e di lasciare che le parole cantino attraverso di me. Io le ricordo che siamo a liceo, non a Broadway. Scusa, ma sono così felice che tu me l'abbia chiesto. Suono una scala al piano. Da quando sei tornata a scuola sei talmente impegnata. Avevo iniziato a sentirmi abbastanza... Inutile, inutile. Da sola fai per dieci. Ride. Evito di dirle che le ho chiesto aiuto solo perché Piper è in castigo fino a data da destinarsi per la storia del tatuaggio. E così ecco ora ad aiutarmi in vista del provino. Quando intono la canzone a metà smette di suonare per prendere un fazzoletto. Mi dispiace, dice. È solo che Glenn la cantava a Sara quando era piccola. E credo che tua nonna la cantasse a lui. Il lampo di un ricordo mi riporta nella mia stanza, con la mamma che mi accarezza il braccio. Mia madre la cantava a me. Mi siedo accanto ancora sullo sgabello del pianoforte e lei si tampona sotto le palpebre, attenta a non rovinare il mascara. La tua voce è identica alla sua. Davvero? Premo delicatamente un tasto con il dito, cercando di ricordare l'esatta tonalità della sua voce. A volte ho paura di dimenticarla. Tipo che un giorno mi sveglierò e la sua voce non ci sarà più. E lei non ci sarà più. Cora preme un altro tasto, andando a tempo con me. Anch'io. In realtà ho un messaggio che mi ha lasciato in segreteria. Dico. Un messaggio profondissimo su un deodorante. E Cora si mette a ridere e prende il telefono appoggiato sul pianoforte. Sul suo schermo appare Sara in un video selfie tremolante. E mamma, oggi vieni a prendimi all'ingresso sud, dice. Non dimenticartelo, sud, l'opposto del nord e capirai che sono io perché avrò questa faccia. Sara fa una ridicola bocca a cuore, imitando una finta espressione sexy. Ah, è perché mi hai partorito tu e quindi è semplice. Il video si interrompe, bloccando Sara mentre mando un bacio alla videocamera. Non hai idea di quante volte l'ho guardato, dice Cora. Non posso evitare di sorridere. Mi sa che ce l'ho. Lei ha perso una figlia e io ho perso una madre. Ma mentre stiamo sedute fianco a fianco, le differenze non contano. Il dolore è dolore. Cora ricomincia a suonare e io finisco il ritornello. Le sue e le mie note si mescolano nell'aria e per una volta sembra che stiamo cantando la stessa canzone. Il giorno del provino, Piper salta pallavolo per aspettare insieme a me fuori dall'auditorium. Da quando ha fatto il tatuaggio non si è più messa la guaina compressiva e le sue magliette sono diventate ogni giorno più striminzite. Adesso le sue cicatrici e le ali da fenice si vedono facilmente. Sbattono nei corridoi come se lei potesse spiccare il volo da un momento all'altro. Non ti preoccupa l'idea di come diventeranno, indico le cicatrici che ha sul braccio, che senza la stretta della guaina probabilmente rimarranno tutte gonfie. Lei scrolla le spalle. Tanto sarò sfasciata comunque. Guarda la mia bandana come se fosse un tradimento. Ancora niente parrucca, eh? E Kenzie ha detto che sembravo un troll. Piper emette un gemito. È lei il troll. E poi da quando ci interessa cosa pensa lei? Nell'ingresso degli artisti una ragazza fa un falsetto davvero terribile, con la sua nota più alta. Mentre viene verso di noi in corridoio, Asad mi saluta con la mano. Poi mi si accuccia accanto. Sono seduta sul pavimento, appoggiata alla sedia a rotelle di Piper e intenta a finire i compiti di storia nell'attesa e tira fuori dallo zaino le scarpete color rubino di Dorothy. Un piccolo portofortuna per il tuo provino? I suoi occhi neri catturano i miei. Batti i tacchi tre volte e comincia lo spettacolo. Prendo le scarpe e passo le dita sulla superficie piena di brillantini. Quello stupido di Asad con il suo sorriso e le fossette e i suoi gesti premurosi continua a mandare a monte il mio infallibile piano, singola vita. Quando mi sorride così, in me si fa strada un pensiero insidioso. La stessa idea che ha preso forma quando il dottor Sharp mi ha tirato sugli occhi. Forse dopo questo intervento salire sul palco non sarà l'unica cosa che sparirà dall'elenco cose che ho perso nell'incendio. Accanto a me Piper si rigidisce e rilancia la scarpa ad Asad. Ava non ha bisogno di fortuna. Quando chiamano il mio nome, però, mi grida di aspettare. Sgancia la sua collana con la fenice e fa segno di abbassarmi. Io adesso ho le mie ali di inchiostro. Ferma lì. È un momento di affetto sincero da parte di Piper? Dico. Lei finge di darmi un pugno sulla spalla. Già, e sono proprio a pezzi. Si asciuga due finte lacrime. Guardala, Asad. La nostra bambina è diventata grande. Asad appoggia una mano sulla spalla di Piper e si mette l'altra sul cuore. Io recupero da terra le scarpe Rosso Rubino e le infilo nella borsa. Un po' di fortuna non ha mai fatto male a nessuno. Sul palco mi aspetta un semicerchio formato dai direttori del casting. Tony è seduto su una sedia da regista in posizione sopraelevata tra una donna di mezza età che a quanto pare è la consulente di recitazione e la ragazza che ha il ruolo della malvagia strega dell'Ovest. In piedi, davanti a loro, c'è Kenzie, la mano sul fianco, pronta per provare una scena in cui io avrò il ruolo di Glinda è lei e quello di Dorothy. Mi porge un copione e insieme recitiamo una decina di battute e poi viene il momento di cantare. Io mi posiziono davanti al semicerchio cercando di ignorare gli sguardi glaciali di Kenzie che chiaramente non ha perdonato né dimenticato il mio coinvolgimento nello scherzo di Asad con il sipario. Canto a cappella, il che mi fa sentire ancora più sola e nuda. L'unica possibilità che ho di farcela è lasciare fuori gli occhi che mi fissano, perciò chiudo i miei e mando giù il nodo che mi cresce in gola. Proprio come nella cisterna del debris de main, mi stacco dal mio corpo e prima di rendermene conto sto sussurrando i versi finali. Birds fly over the rainbow. Why, then, oh why, can't I? La nota finale a legge ancora nell'aria quando apro gli occhi. L'insegnante di recitazione tiene in mano gli occhiali e si passa un fazzoletto sotto gli occhi in un modo che mi fa sentire ancora più esposta e Tony rompe il silenzio sbattendo a terra il suo portablocco. Dal modo in cui l'insegnante lo zittisce sono abbastanza sicura che abbia anche imprecato sottovoce. Beh, mi dispiace, ma sono arrabbiato. Si rivolge a me come se gli dovesse una spiegazione. Perché non hai partecipato ai probini ufficiali? Ti avrei dato il ruolo a... Ken si alza bruscamente, interrompendolo prima che possa finire. E ti farò sapere, mi dice secca, mentre raccolgo le mie cose e Tony continua a parlottare in tono accalorato con l'insegnante. Se la mia vita fosse un musical, questa sarebbe la scena in cui io e i miei giudici ci mettiamo a ballare una coreografia. Loro mi solleverebbero sulle spalle mentre delle CLE azzurre volerebbero in un cielo attraversato dall'arcobaleno. Invece Kenzie apre la porta e mi fa segno di andarmene. La vita non è un musical. Io e Piper siamo sedute sul bordo delle marciapiede in attesa che ci vengano a prendere quando Tony ci raggiunge da dietro. Ah va? Sì? Mi alzo, ma comunque gli arrivo solo al petto. La parte tua, dice, non è un ruolo enorme, è certo, ma sarà una buona esperienza per l'anno prossimo quando farai i veri provini. Sorrido e scuoto la testa, un passo alla volta. Quindi ci stai, allunga la mano. E hai ben chiaro che nello spettacolo non potrai cantare a occhi chiusi, vero? Certamente, dico, stringendogli la mano. Ci sto. Piper strilla così forte che sono costretta a zittirla. Mentre Tony si volta per andarsene, lo fermo. Solo perché tu lo sappia farò un intervento. Agli occhi. Perciò la sera della prima le cose andranno un po' meglio. Sotto il pizzetto le labbra di Tony si piegano verso il basso nella stessa espressione irritata nella sala dei provini. Con quella voce nessuno penserà al tuo viso, dice, e non dovresti pensarci nemmeno tu. Dopo che Tony se ne è andato, Piper mi dà una pacca sul sedere. Io mi riparo gli occhi dalla luce obliqua del pomeriggio, così da poter vedere meglio il suo profilo. Ha un sorriso enorme, il più grande che abbia visto sul suo viso da un po' di tempo a questa parte. Quindi, anche se sono terrorizzata dalla cosa che ho appena accettato di fare, sorrido anch'io. Sai cosa vuol dire, vero? Domando. Chiacchensi prenderà un colpo? Questo è... è che tu hai sette settimane per mettere a punto la tua standing ovation.